amici della brother with alien gaming bentornati in un nuovo episodio con il cuore dello ferro e l'impero bizantino più viola e più infame che mai alla fine dello scorso episodio abbiamo deciso che se dovevamo fare i pezzi di merda valeva la pena farlo fino in fondo perché ci stavamo impantanando in nord italia e come si sa allo bizantino non piace impantanarsi motivo per il quale abbiamo colto al volo l'occasione che baffone ci ha dato di entrare in guerra con lui per forgiare un nuovo ordine mondiale anche se poi lui non sa che noi faremo il quadruplo gioco carpiato con pirouette e scappellamento a destra ma bando alle ciance andiamo immediatamente a salutare gli artifici di cotanta infamità e rispondono ai nomi di vernici buonasera perché è molteplice scuse no di vernici virgola saluti poi vado degli altri non deve intervenire lei deve salutare non deve intervenire non deve questionare non deve rompere il cazzo non rompere il cazzo sentito come scattato che scatta tutto va bene saluto ciao no così non mi da più gusto niente ti voglio bene vernici andiamo a salutare il flac buonasera ciao buonasera a tutti andiamo a benissimo finalmente uscito dal pantano se si abbiamo usato una strategia che è quella unica no 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 questa è sono calunnie le nostre capacità strategico tattiche militari hanno sfondato sul fronte stiamo andando avanti come uno spettacolo la vittoria abbiamo vinto capacità tattico strategica si chiama un'armata russa ma va bene tralasciamo questo andiamo a salutare il dottor ottila buonasera è partito un piffero è partito un piffero nell'ufficio del dottor ottila non osi immaginare cosa succede nell'ufficio del dottor backfield buonasera 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 come sta molto bene lei bene se ci inizi a mandare due spie un po in giro a fare cose la ringrazierei il mondo è pieno delle nostre spie molto bene a momento quasi tutti in francia ottimo signori la situazione è questa abbiamo il fronte francese dal nord italia aperto stiamo avanzando con non poche perdite con non poca fatica che che ne dica il dottor flack l'armata rossa si è fermata in quelle del confine franco tedesco e si procede si procede abbiamo qua una sacca inglese gulosa questa bella questa signor flack bella mi piace fatta bene a signora l'alger li ha salutati i fini economisti infatti lo stavo aspettando per dire adesso li andiamo a salutare andiamo a salutare i fini economisti meno male che c'è bernizzi che me lo ricorda meno male che c'è il buon verni andiamo a salutare i fini economisti che si stanno godendo questo episodio dell'impero bizantino in anteprima andiamo a salutare il signor algho e il signor alex e il signor il signor artos il signor bonni il dottor gianmarco il dottor gianchi imperador yuko il signor lil clinton il dottor nicola il signor pioli russi il dottor beri il signor gentili e il signor tommy buonasera fini economisti è sempre un grande piacere potervi salutare vernici cosa ne pensi che è salutare salutare la gente meno male che te l'ho chiesto perché non potevo andare a dormire senza questa freddura signori direi che il tempo è maturo ma prima di far partire il tempo io chiederei a buon vernici visto che si è preso le marini di tutto il mondo vorrei capire com'è la situazione marittima preso in che senso nei denti anche hanno preso la marina turca la marina rumana la marina iracchiana posso dire che però non può manco fare questi di fronte ai regali veramente scortese bravo non gli va mai bene niente veramente scortese allora ottima nave per la guardia costiera sì va bene veramente a noi non ci ha dato un cazzo bravo bravo ho detto giusto invece alla versione non vedo niente alla versione non vedo niente a voi sono regali a voi sono regali e complimenti a me sono insulti ma se c'hai tre slot di ricerca in più di noi che cosa parla è perché ho dovuto colmare un gap signor Bedfield lo blasti lo distrugga niente il silenzio dice tutto stavo risolvendo un problema di fine economistica alcuni su browser vedono nero effettivamente stavo risolvendo il problema stavo lavorando per voi ah ma se vedono nero però si è l'ha interpellata mentre lavorava a differenza di vernici che sa solo lamentarsi è stato una maiuta ma che oh se oh veramente ma pensa piuttosto a spendere i punti di esperienza militare parole pesanti parole pesanti allora faccio gli sciatori se li hai se li hai i punti spendo ah non li faccio signori banda alla ciancia signor Flak faccia partire il tempo a lei l'onere e l'onore l'onere e l'odore allora situazione del fronte molto bene situazione dei mari vernici rapido ed infallibile come il sommergibile stiamo usando una quantità abnorme di convogli adesso per i consumi per perché si è preso tutti i dockyard dell'italia adesso dovresti spammare i navi come se non ci fossero domani per i supply stiamo usando tutti questi dockyard e per il resto siamo riusciti a stabilizzare la situazione stiamo combattendo il mediterraneo sembrerebbe totalmente casa nostra beh si però voglio dire c'ha anche corazzate di un certo di un certo spessore di un certo livello eh certo le ho fatte io belle eh scelte io progettate personalmente ma dove le hai dispiegate scusi no no dove sono le corazzate quelle nuove ah eccola qua latinai esatto ha un colore di merda però vabbè perché è bello il tuo di colore ma come ne permetto ma come ne permetto ma come ne permetto e poi comunque vorrei lamentare il fatto che non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quanto cosa ti serve fatela comprare ma che vuoi manca sempre la gomma manca ma che ci fai te con la gomma eh lo so io che ci faccio che ci fai i canotti che ci devi fare te lo dico ma che risposta no vai eh no se lo lasci che cosa no era un no prevedibile no non è quella non è quello che ho pensato non mi ricordo come si chiamano quella di quel restellare quella che i droidi che ruotano con la ruota non era la battuta che pensavate no pensavo stesse parlando di no di bevande di vibrofalli in lattice ma sono una bevande che sporragge che sporragge abbiamo i missi abbiamo l'artiglieria migliorata miglioriamo ulteriormente l'artiglieria signor Flacco sono in campo un pazzisco signor Flacco o signor Attila chi? eh mi dica che cosa ci sono state facendo voi? lei mi confonde eh mi dica intanto la Francia è caduta è lentissima ma mi dica e niente questo no no mai più senape niente ma io ero un fan della senape e niente ma possiamo buttare a Parigi per mettere su ma com'è che si chiama la salsa greca? non c'è non c'è cazzichi sempre cazzichi cazzichi grazie sempre cazzichi mi confondo con la salsa di soia io ma come fa cazzichi salsa di soia mi confondo con l'enmental è così basta più strategico oh rallenta che dobbiamo nuclearizzare Parigi no 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 prendila no mai corre via adesso si avanza aggressivi voglio il panzer comunista un panzer quando avanza e non finisce benzina è un panzer guasto bisogna farlo salutare prima di tutto la faccio fucilare perché non è un panzer prima di tutto è un panzer vabbè ma in greco in greco si dice panzer è il catafratto automatico sono entrato a Charroix al limite signor Vernizi è un racchetto in automat ancora con la parola brava ha detto bene che la spamma sempre adesso rientro a Charroix almeno l'hai sbloccato quel carro del merda no il sultanato di Aus ha dichiarato guerra all'Etiopia ma sono cose che cambiano cose che cambiano cose che cambiano la cittadatta è comunista un po' importiamo troppo metallo perché stiamo sparando ah belga non difendi più adesso le voglio sbarcare ti stai difendendo in casa dormi fuori le patate belga subito la presa bene la presa bene la presa bene ma siamo in lomba in power signori siamo in lomba in power devo aumentare la coscrizione aumentiamo la coscrizione andiamo in service by recruitment cosa vuole bombardare? Londra 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 abbiamo pulito l'acqua della Senna comunque nel frattempo è difesa da un pugno di aerei dai Londra bombardiamola dai pugno di aerei tibet no tibet aia tu spam mi raccomando aia ok che bella sta strategia ma li volevo ha tentato rifame marine no non l'ho vista la bombarda non ci permette scusa cerci probabilmente guarito da girosipatica con questa bomba cosa che c'è manca dove stanno sbarcando la dignità ecco attenzione gli americani sono scesi in marocco merdica parli per lei ma sono già insacchettati menali hai visto scendono cacciano già subito gli aeroplani i canadesi gli indiani poi guarda tu subito i brasiliani sono arrivati si permise ma adesso sto sbarco verso gli states del vernici è collaborazionista verso gli states ho sempre avuto il dubbio però è uno che mi piace è uno che mi piace a Chicago Pizzali e la Francia Francia RP sempre come adesso facciamo la stasaca in Olanda mamma mia che bella stasaca argentini inglesi brasiliani messicani di tutto c'è sta sono pronti sia anche gli islandesi sono pronti sacchettari sui peggiori nemici se le do vuole i cileni i cileni stanno per cadere i cileni non sono i miei nemici perché sono i miei nemici come no le le miei nemici mi ha mai detto le miei nemici l'ultima puntata la penultima puntata c'era i cileni eh vabbè ho capito sì perché non è che c'erano i cileni nel Mediterraneo i sommergibili cileni che ci tiravano giù i rifornimenti senti che parte parte l'odio ma che parte l'odio eh sì era la totale inadecotezza della nostra marina militare che permetteva dei sommergibili cileni di tirarci giù i convogli no però io non le permetto di offendere i nostri marinai offendo l'ammiraglio scusate eh vabbè sì certo offendendo la marina offendo l'ammiraglio trattano male senza motivo come senza motivo abbiamo quasi perso l'Italia cazzo e poi l'abbiamo riconquistato abbiamo risolto la situazione grazie a me tra l'altro insomma eh sì posso dire che si sta prendendo dei meriti che non ha come sempre tra l'altro ah che bello è caduto il Cile ah grazie poi grazie grazie eh e tra i brossi il panzer intanto le notifico che Bordeaux è ancora in mano in mano nemica non so se sì è un colore che non mi piace vabbè ecco lo prenda comunque secondo poi per quale motivo questi stronzi a Voralberg non sono in aperito cioè ho detto anche Voralberg tra l'altro ma comunque io lo chiamo come stragezzaccio mi pare posso cagare a Parigi tibet è capitato e niente così vai qua ma che ha fatto ma che è successo ma sti dieci messicani qua a Strasburgo ci possiamo fare un film dieci messicani in Alsazio tanto sono insacchettati i messicani contro Cina comunista una guerra dei compagni che sbagliano oh attenzione in Egitto in Egitto e la madone ha trovato un fronte nuovo vabbè adesso ti faccio male adesso ti faccio male maia ho trovato sbarcano con le piattaforme come questi sbarcano lo abbiamo noi le piattaforme è vero non servono a niente non servono a niente ci possiamo presentare in America e dica che non le sa usare oh pesante una volta serviva un tipo come porto provvisorio adesso non servono più a niente non danno neanche i bonus dello sbarco intanto li insacchettiamo nel dubbio ma intanto siamo a 400.000 uomini ha aumentato pure il service by agreement eh signor Flacco gli manda a combattere così nudi a dire il vero sono i marirei che affondano che sono perdita ah si proprio quella le ho visti giusta si 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 facciamo in fretta facciamo delle statistiche facciamo in fretta a vederlo abbiamo tre milioni tre milioni di morti una buca su rossamburgo dai dai per quel motivo o su Amsterdam dai non ce la farei mai ci stanno troppi aerei no ci sono catturato Patrick Lang Fermor lo stiamo andando che è ah etimo stichità etimo stichità vabbè chiudiamo questa cosa e sbarchiamo in Inghilterra per cortesia che mi hanno già stufato questi cialtroni vernici abbiamo la marina per sbarcare in Inghilterra si ma hai visto quante truppe ci sono insacchettate qua scusa si si quanti miliardi di uomini stiamo parlando sono 200 divisioni comprese 76 cileni 76 cileni no tutti i cileni non saranno però alcuni hanno preso la cittadinanza qualche bel milioncino di poveracci c'è allora l'Inghilterra non so neanche come sia ancora in piedi a 6 milioni di vittime sono 22 sono 22 divisioni del Brasile qua 6 milioni 6 milioni americani e 6 milioni inglesi non so neanche come riescano a l'Africa e l'India l'Inghilterra gli ho preso il suo colore preferito il pezzo più importante l'Aquitania è stato recuperato attenzione 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 il mio power sceglie vertiginosamente comunque danni veri sti sommergibili è pagato come una schifezza sti sommergibili mamma mia danni veri è una roba sì sì ma sono come sempre sta roba è pagata in modo schifoso e disgustoso infatti infatti il signor Flak e l'Amer stavo per dire adesso Flak per quello che riesce è vero è verissimo chiedono l'obiettivo della campagna qual era? è una bella domanda riformare l'impero bizantino ci manca ci mancano due territori al momento sono in mano e l'Albania sì ci manca l'Albania e questi sottotitari qua quindi fare l'ultima decisione ci manca e per farlo il trionfo nei Balcani conquistare Los Angeles così strani percorsi della vita cose che accadono in ogni run mi sa sì tra l'altro vada senta avora una bella atomica scusa ma questi c'hanno un sacchettone che qua dovrebbero morire dentro per sempre sì veramente tutto il cazzo tiriamo un'atomica qua che mi hanno fotocopiato le palle sono gli svizzeri secondo me sono gli svizzeri tiriamo un'atomica qua dove? eh qua ma no ma incredibile ma no ma incredibile dove è qua dove è qua ma che organizzazione di merda è ma come facciamo a tenere variegette i psicologici così ma che coroba è vabbè tanto la password è sempre quella lo siamo da 8 anni lo siamo sempre quella per tutto abbiamo abbiamo nuclearizzato Milhouse 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 signor Flack chiuda sta sacca perché ci sta costando chiudere no chiudere sta sacca la tradurco in perdita di manpower quindi si figuri io non non sto minimamente spingendo in sta sacca dobbiamo sbarcare ci sono i russi scusa che se ne frega che crepan loro sì ma il nostro manpower continua a scendere in maniera verticale proprio ma no viene solo posizionato diversamente ma questo non credo a 180 come dice sì ma non posso ancora farla sta roba cosa zitto un po' oh ma come ti permette cagati in tasca allora no la flotta americana tutta qua mamma mia paura senta vernici non mi inclinci con paura flotta americana oh siamo in positivo di gomma siamo in positivo di gomma in modo totalmente giustificato allora possiamo ritornare in negativo esatto 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 è lì che fa aeroplani senza ruote cazzo ma fai idrovolanti fai il messer schmidt stramboli come si chiama Verlizzi tu che sei intelligente schmidt stramboli non mi ricordo vabbè quello lì insomma fai quello con la slettina sotto il caccia il messo ci metti babbo natale lo chiamano signor Verlizzi quando voleva farsi anche i marine ma non me la permette quell'altro scemo ma non mi ha mai detto un cazzo e lei deve ricercarli scusi mi tratti male poi mi dici no quello non lo puoi fare perché è brutto sì ma perché tu non credi in te stesso io ti toccano autostimico intanto vi notifico sbarco statunitense in Norvegia e tentativo di sbarco in Danimarca eh non sbarcano solo dove non ci sono i più forti madonna mia 95 divisioni americane qua questa è russina madonna qua veramente c'è un 40 95 73 qua c'è veramente l'esercito 40 qua c'è l'esercito intero in realtà farebbero veramente salenderebbero per far ritornare la gente a casa così si dice ai secato un paese si riprende più siamo sotto di gomma natural no allora vi do un aggiornamento su per quanto riguarda la guerra navale ho ridotto di 100 unità i convogli inglesi sono passati da 800 a 700 questo vuol dire nel giro di tre mesi questo significa che nel giro di un annetto buono si dovrebbero trovare in forte difficoltà per quanto riguarda i convogli ma non riusciamo a sbarcare in inghilterra no per il momento no perché se il benizio ho dato ordine al mio generale panagiotis di preparare lo sbarco quindi chiedo al maresciolo dell'aria di iniziare a baccare male le infrastrutture navali inglesi compresi le navi inglesi si potrebbero anche bombardare nuclearmente tutte le città andiamo a bordare nello stretto chi sono io per oppormi no ci sono troppi aeri nemici non posso però se lascio a baccare nello stretto sarebbe male non sarebbe male tra l'altro i sottomarini che affondano i chriseri e i destroyer americani è sempre bello vederli sì esatto una vergogna questo gioco è una vergogna queste robe vabbè tecnicamente possono farlo però ci sta nel senso tecnicamente sarebbe una follia non l'avrebbero mai fatta se non in casi sporadici una tanto certamente non andare a cercarle proprio con un rientro in patria marci trionfali per il comandante di quel submergibile pompini settimane di pompini e soffoconi non l'avrei messa proprio in questi termini tecnicamente in questi termini arrivo dove va arrivo dove va sta negoziando la pace con il nemico mamma mia è che vedi siamo cioè loro hanno lo spettano navale in quest'area qua nella baia di Pischi e poi in gli inglesi non ci posso andare perché è il mare poco profondo e quindi mi rischiavano subito e li distruggono male però loro fondamentalmente tengono ancora la superiorità navale in quest'area qua io non ho la flotta per andarci per andargli e dar battaglia per il resto è verde puoi andare in Scozia eh no non possiamo mettere dei naval bomber nella baia vabbè se riusciamo se si è ripartita la produzione degli aerei si ripartita in grande stimo bene lux region fare uno conto sbarco stai scemi falli venire che vengano troveranno che in benelux c'è un bizantino e ci salute che ho no dove dove sono allergico ai funghi no e vabbè no adesso avete cagato bombe atomiche senza pietà fino adesso non me l'hai fatto vedere e ciò no basta madonna dove è diventato un altro delinquente vi sa si si ecco no io sto notisco alla fine diventerete tutti come me niente si sta trasformando in vernici no poi non abbiamo questi qua sono da togliere proprio esatto bombe atomiche uno dietro l'altro si se avete di fare dei test con qualsiasi cosa anche con i vasi di senape c'era bellissimo no non esistono più i vasi di senape questa brutta inizia la senape di digione tutte le altre senape esistono no un colore stranamente giallo fosforescente questa sera allora la reazione nell'inglish channel sta incominciando a dare i due frutti esatto è la marina nostra che deve un pochino ammetterci o no verdi cosa vuole questo la marina siamo a zero proprio zero proprio di che cosa di cosa di virtilli rossi di superiorità non posso andarci mi spaccano la flotta se ci vado no ma tu basta che ce l'appoggi per finta non di vero no no ce la devo appoggiare davvero sono attraverso in un'unità ma prova a mettere in assistenza al barco vedi che succede e no non da c'è lo dà ma meno da meno superità male se devo fare il no la Thailandia c'è il margato la Repubblica di Thailand posso giustificare no scherzo non avrà altri fronti lui è la Thailandia capirai e poi la Thailandia si unisce la Cina ma adesso è a 350 adesso il convoglio inglesi ma forse sono forse sono io che sbaglio però la Svizzera mi sta un po' su l'inglese ha zero di petrolio gente adesso potrebbe esserci la finestra di opportunità la Svizzera mi sta un po' su la Svizzera ma nessuno sta simpatica la Svizzera neanche gli Svizzeri hanno sempre fatto i superiori verso gli Ostrungarici siete mai stato un impero svizzeri oddio lo sbarco però non posso farlo partire dal British Standard provo ma vediamo tettilo pronto farlo partire si si io ce l'ho impostato qua poi i russi si sono fatti in finocchiera ma dai gli antinave cazzo che è un passo da lì è nuovo questo questo perché non passano da qua direttamente fanno tutto un giro ah si ho capito perché ma c'è il tratto eh si infatti adesso passano boh bella sacchettate sti curiosi anglosassoni per cortesia grazie curiosi anglosassoni si si caro amico anglosassone fatti una pinta di birra calda eccoci qua non ci sono bastati non ci sono bastati gli 8 milioni di truppe che ci hanno qua in sacchettare allora gli americani sono gli inglesi sono quasi 7 milioni gli americani sono 8 milioni madonna in totale gli alleati 26 milioni a me vantaggente è morta tanto per gradire eh i sabato ne faranno una canzone probabilmente si ma non servono più i sabato ma vuoi cagare di nuovo su londra eh come vuoi cagare su londra di nuovo così è una proposta ma sarebbe meglio fin basso qui da questi vabbè tu spamma dove cazzo ti pare basta che non mi bacca ti porti se non vi denuncio ma è che da questo i coglioni ma no l'ha tirata di là ma avvora il belio la mandata l'incoglionazzo eh no sono da purgare quelli che stanno lì non in attrito con lo svizzero scopacero non i coglioni ah lo svizzero mi diventa scopacero quindi si noto notissimo eh parte lo sbarco in Inghilterra attenzione parte lo sbarco in Inghilterra signori ma sarà argomento della prossima puntata quando ci si diverte il tempo vola signori dalla Broder Italian Gaming è tutto e dallo sbarco bizantino in Quil della Gran Bretagna ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao 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 ciao